Ormai ci siamo abituati, quindi ogni giorno ne esce una, siamo la notizia di tutti i giorni, però magari fate uscire notizie valide, quelle belle, no? No, magari cazzate. Sta girando voce che Daniele De Martino ha avuto un incidente mortale a Palermo, ragazzi, non è vero niente, io sto bene, ho finito adesso di cenare, solamente che questa sera dovevo essere accadanzato e abbiamo avuto un piccolo basto alla macchina e si arrivava alle 3 del mattino. Non è che possiamo arrivare alle 3 del mattino in una serata, ci sono bambini e ragazzi che ci aspettano e abbiamo spostato la data. Un bacio a tutti gli organizzatori, dico, però non inventiamo, ha avuto un incidente, è successo, non è successo proprio niente, sono a casa, mi sto conendo mia nipote, Sofia, la figlia di Giovanni, al quale hanno detto, è stato Giovanni a dire, mio fratello ha avuto un incidente, che sia mai, che è una parola, mio fratello non la dice mai, quindi figurati se si mette a scrivere su Facebook. Quindi a te che hai scritto sta cosa, scendando a me e ti auguro altri 2000 a te, ok? Comunque un bacio a tutti quanti, mi scuso ancora e vi faremo sapere la data da destinarsi per il concerto di Catanzalo. Scusateci sempre e, guaglio, l'invidia è tanta, ma chi vive di invidia muore disperato. Ciao!